Ciao, sono Alexander Reif di strategiavincenti.net Oggi ti parlo dello zio H Lo zio è una delle poche persone nella scena della crescita personale in Italia, ma anche nel mondo che io sto seguendo con regolarità da 3-4 anni se non ricordo esattamente Lo zio ha due pregi il primo è che da oltre 20 anni sperimenta tantissimo su se stesso tutto ciò che lui vede riesce a incuriosirlo Il suo pregio rispetto a altre persone è che poi queste cose che prende lui le modifica, cerca di migliorarle e quello che poi lui tira fuori le sintetizza e soprattutto gli esercizi la parte pratica, non tanto la teoria che lui non trova importante ma quello che ti fa avere i risultati sono la pratica, l'azione, il fare quindi tutto ciò che per lui ha funzionato poi condivide nella sua comunità la sua comunità è quel gruppo di persone che hanno deciso di investire su di lui seguendolo come per esempio faccio anch'io sono scritto alla sua HNA news audio mensile e sono scritto alle sue liste private dove hanno accesso solo le persone che investono su di lui è una vera miniera d'oro non solo perché lui risponde condivide tutto ciò di nuovo che prova e funziona per lui ma anche quello che non funziona ma soprattutto anche perché è una comunità di persone veramente dedita alla crescita personale e ognuno contribuisce a questo gruppo per iniziare con lo zio si parte sempre e sono partito anch'io con VCD 2009 che è il video cambiare divertendosi in cui ci sono le basi questo video per me è stato molto importante la parte che mi ha portato più risultati in assoluto è stato conoscere e imparare la routine energetica che io adesso pratico quotidianamente e come risultato mi ha portato a passare da 4 malattie all'inverno a passare a 2 anni in cui non mi sono mai ammalato fai come me tu prova quello che funziona per te e continua a farlo quello che non funziona lo cambi e cerchi qualcosa di nuovo se vuoi provare delle risorse gratuite dello zio è sufficiente che tu vada su www.migliaurati.org e scarichi il materiale che c'è da Alexander è tutto ciao alla prossima